Circa 40 vetture presenti per dare vita a un evento in continua scese, la comune di Nocera Umbra ospitato la seconda edizione di Cars & Coffee per certi versi un nuovo modo di intendere il turismo lento capace di attrarre nel suggestivo Borgo Umbra una grande quantità di persone provenienti da varie parti d'Italia, fondamentali in termini organizzativi, l'impegno dell'Automobile Club di Perugia. Una giornata che racchiude passione, amicizia e si può appunto partecipare con qualsiasi vettura storica questo è il messaggio che ACI storico vuol dare, quindi venite a trovarci, venite con le vostre belle vetture a questi eventi che durante l'anno ce ne saranno altri. Cars & Coffee ha permesso di far raggiungere a Nocera Umbra macchine e moto prodotte molti anni fa ma tenute in maniera perfetta da rispettivi possessori a proposito dei conducenti, per loro c'è stata l'occasione di dedicarsi a varie attività basti pensare alla visita presso le note sorgenti d'acqua e alla divertente gira a piedi nel centro storico del Borgo Curato dall'associazione Trekking Nocera Umbra. Sicuramente abbiamo l'opportunità di far conoscere anche a chi è vicino a noi una città che sta rinascendo ormai da qualche anno e che quindi vuole essere apprezzata in tutta la sua bellezza una splendida giornata e quale migliore occasione per visitare Nocera quest'oggi ma magari incuriosire anche chi ci è venuto a trovare per tornare nelle settimane e nei mesi prossimi. Dall'Alfa Spider Touring 2000 alla mitica Fiat 500 Topolino autentici pezzi di storia da fare a viaggiare lungo strade circondate da storia e vegetazione esperienza più che apprezzata da chi quest'anno ha fatto di tutto per esserci.